crutch mindset benvenuti cari amici del canale dumpat rugby oggi parliamo di lo sapete una delle cose che mi sta più a cuore in assoluto ossia il benetton rugby treviso vedete la maglietta dietro e parliamo del benetton rugby perché mancano mai due settimane mancano due settimane direte come due settimane manca di più all'inizio dell'urc certo però il 2 settembre quindi esattamente tra due fine settimana ci sarà la la prima amichevole del benetton treviso in inghilterra in casa di niente po di meno che i sail sharks vedremo se vedremo davanti a noi manotuilagi per esempio o o o tom carrey insomma ci sarà ci sarà da divertirsi un amichevole di lusso e poi il 9 settembre si giocherà a edinburgo la seconda amichevole quindi una settimana di distanza e poi si inizia perché il 16 settembre di let's go warriors prima di campionato dello ulc quindi diciamo che dal 2 settembre ossia tra due settimane si inizia e abbiamo una partita a settimana quindi la stagione ha inizio la stagione ha veramente inizio e allora credo che sia venuto il momento di dare un'occhiata al benetton dell'anno prossimo non ancora la rosa non ancora la rosa aspetto di avere tutto il quadro completo degli acquisti qualcuno lo sappiamo sappiamo i cambi che sono stati fatti ne abbiamo già fatto ne abbiamo già fatto un po' alcune quando quando è successo qualcosa l'abbiamo detto watson il scrofton i nomi più insomma eclatanti di dalgo klein se ne sa da tanto tanto tempo insomma questi i nomi importanti che vengono da fuori però aspettiamo aspettiamo a fare il quadro finale di tutto quello che la rosa del benetton treviso credo che in queste ultime due settimane si avranno qualche si avrà qualche dettaglio in più però però parliamo di che benetton treviso ci aspettiamo dove siamo rimasti siamo rimasti che nel video se volete andatevelo a vedere dove ho fatto il riassunto della stagione passata abbiamo dato un bel sei e mezzo al benetton treviso sei e mezzo ehm sei come il numero delle vittorie del benetton l'anno scorso più un pareggio quindi insomma eh abbiamo avuto questa settimana marco bortolami ospite a leoni fuori un'intervista interessantissima e proprio su quello si concentra il mio video di oggi e marco bortolami ci ha detto bene siamo a tre vittorie e mezzo dalla quota playoff diciamo che l'anno scorso una squadra con dieci vittorie è andata ai playoff eh tre vittorie e mezzo forse qualcosa in più però siamo vicini siamo vicini quest'anno se si facesse quel salto di qualità si potrebbe iniziare a sognare sognare i playoff a ripetere l'impresa di eh qualche anno fa dove siamo andati appunto a giocarci poi il quarto di finale col monster ehm allora che cosa ci ha raccontato marco bortolami io vi invito ad andarvi a scaricare la puntata l'ultima puntata di leoni fuori su spotify spreaker o i nelle varie piattaforme di podcast e ascoltandola perché è stata veramente illuminante ehm abbiamo trovato un bortolami disponibilissimo entusiasta eh fiducioso delle possibilità sue e del benetton treviso e quindi ci ha veramente mi ha un po' eh come dire rinfrancato perché tra tutti i vari problemi che ci sono stati ioane torna non torna eh le ultime prestazioni della nazionale la sconfitta di battumi eccetera eccetera abbiamo voglia di tornare a vedere rugby marca italiana e per quello che riguarda eh me assolutamente soprattutto sul benetton ovviamente anche sulle zebre quest'anno nel canale eh cercherò di seguire tutto il possibile tra benetton e zebre il il più il più possibile allora eh che cosa ci ha detto bortolami innanzitutto gli abbiamo chiesto della filosofia di gioco e una cosa che mi ha colpito e la risposta che ha dato bortolami riassumiamola un gioco non polarizzato su uno stile ben preciso è stato fatto l'esempio del Sudafrica ci sono anche altre squadre magari all'altro estremo ad avere un gioco molto polarizzato come stile no mi viene in mente per esempio eh il Giappone o l'Australia per vedere un gioco diciamo appunto eh polarmente differente totalmente all'altro polo da quello del Sudafrica invece Bortolami ha detto che il gioco che vuole mettere in piedi e che sta mettendo in piedi col benetton treviso è un gioco semplice multi opzionale ed eseguibile sotto massima pressione questo per riassumere con una definizione eh quasi virgolettata da quello che ci ha detto Bortolami eh cosa significa semplice significa un gioco eh dove rapidamente i giocatori sappiano dove posizionarsi e come posizionarsi in base immagino io questo aggiungo io alla zona di campo alla situazione eccetera eccetera dove abbiano tante opzioni però poi possano prendere possano prendere loro le decisioni prendere loro le decisioni semplici quindi sotto massima pressione non un gioco alla Bortolami ossia questo è un gioco alla Bortolami però diciamo non un gioco eh che si riconosca per forza nella firma dell'allenatore ma un gioco che sappia in qualche maniera anche adattarsi alla situazione alla situazione significa ai propri giocatori che siano a disposizione agli avversari alla partita agli obiettivi della partita alla condizione di campo meteo eccetera eccetera mi è piaciuta questa risposta mi è piaciuta perché eh è stata una risposta onesta sincera interessante eh Bortolami ha detto forse questo potrebbe essere tacciato da parte di qualcuno eh di essere un po' semplicistico io lo trovo tutt'altro che semplicistico lo trovo invece molto molto profondo e molto molto complicato da eseguire ehm un grandissimo allenatore del calcio Marcelo Bielsa ad esempio dice io lascio a quelli veramente bravi e quando parla di Bielsa parla col cuore cioè non è un eh quando dice a quelli veramente bravi non è per dire eh e fare il falto il falso modesto cioè eh il fatto di adattare il proprio gioco ai propri giocatori e le proprie situazioni lui dice io preferisco avere un gioco chiaramente riconoscibile chiaramente parliamo di calcio e parliamo di una cosa totalmente diversa però lui dice io preferisco avere un gioco chiaramente riconoscibile perché da un certo punto di vista è più semplice a far girare la squadra in questo caso è uno sport diverso un gioco completamente diverso però mi è venuto in mente questa idea perché mi è venuto in mente come il lavoro che sta facendo Bortolami sia tutt'altro che semplice anzi credo eh profondo nella ricerca della propria identità un gioco improntato sul decision making che però parte da un gioco un po' più strutturato gli abbiamo chiesto ma le differenze tra il tuo gioco e il gioco di Crowley ecco la risposta è stata altrettanto interessante perché lui ha detto eh il gioco di Crowley è un po' meno strutturato probabilmente perché ha a disposizione il meglio del dei giocatori del Benetton anche se ce n'è un grande numero e invece Bortolami deve avere a che fare settimana per settimana con anche i giovani che vengono su dall'accademia dei potenziali per mid player non si è capito bene quest'anno come funzionerà il discorso dei per mid player sembra che ci sia ancora una porta aperta a avere in qualche maniera ehm giocatori che salgono e che scendono dal top ten anche se Franco Smith che poi si è andato ci aveva detto in eh nella conferenza stampa della FIER che quest'anno non dovrebbero esserci per mid player vedremo che cosa succede comunque insomma ha a disposizione un ventaglio differente fatto anche di stranieri fatto appunto di giovani dell'accademia fatto di giocatori italiani che non entrano nelle convocazioni della nazionale eh eventualmente di per mid player quindi un gruppo più ampio e un gruppo anche magari con un una capacità di decision making per forza di cose eh non così sviluppata come dei giocatori internazionali da test match e quindi diciamo il gioco Benetton che ha gli stessi principi nel decision making di quelli di Crowley ma eh più strutturato che parta da delle strutture più chiare eh dalle quali poi i giocatori possano prendere le decisioni le decisioni semplici altre cose che ci ha raccontato Bortolami tra una domanda e l'altra e che si starà che si sta lavorando molto sulla difesa ehm nonostante la partenza di Gastard ehm c'è un lavoro intenso anche con i nuovi arrivati nello staff tecnico sulla difesa quindi ci ha quasi non dico promesso ma ci ha eh così fatto pregustare una Benetton Treviso quest'anno molto aggressiva e molto solida in difesa aggressività viene anche da quello che ci ha detto ossia le chiavi del gioco moderno sono difese che salgono forte aggressive e gioco aereo e su questi due aspetti si stava lavorando molto bello interessante interessante se riusciamo a sistemare questa cosa del gioco aereo assolutamente interessante sia in chiave bianco verde che in chiave ovviamente azzurra vedete le due magliette che sono dietro di male sia in chiave bianco verde che in chiave azzurra oh sono un po' datate ste due magliette eh soprattutto quella dell'Italia lì ossia anche quella del Benetton però quella del Benetton è storica e mi piace quella dell'Italia insomma se 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 Benetton Treviso Federazione Italiana di Rugby se volete che vi metta le magliette nuove con i vostri belli sponsor mandatemele scherzo ma non troppo perché io sono a Barcellona quindi non posso scendere a comprarne si sta lavorando sulla difesa poi si sta lavorando sul gioco aereo domanda mischia io gli ho fatto la domanda in mischia l'anno scorso abbiamo sofferto è stato evidente facendo la revisione della stagione partita dopo partita e qui eh Bortolami ha risposto sì però alla fine stagione a fine stagione è migliorata ed è vero eh stiamo lavorando molto sulla coesione della mischia immagino che adesso non sia anche facile lavorare sulla mischia avendo dei pezzi importanti che mancano perché mancano ad esempio eh due piloni abbiamo Tetas Ciapparro e eh Tomas Gallo che sono in questo momento in Argentina stanno facendo molto bene però insomma si sta lavorando si sta lavorando sulla mischia io quello che ho detto a Bortolami e quello che dico anche a voi è che io ho un po' l'impressione che abbiamo gli stessi giocatori dell'anno scorso in mischia sì è vero però abbiamo dei giocatori che hanno lavorato un anno in più sotto la cura Bortolami anche se vabbè Bortolami c'era anche prima e e e Ungaro anche però diciamo che l'anno scorso sotto la guida Bortolami da head coach e soprattutto dei giocatori che quest'anno hanno fatto delle esperienze molto molto importanti abbiamo un Ferrari che è tornato da un infortunio ed è intornato devo dire la verità molto bene eh l'ho sottolineato più di una volta come nella partita con la Giorgia sia forse stato l'unico che si è salvato e non aveva davanti eh dei giocatori facili non facciamoci prendere dai bias la Giorgia non ci ha battuti in mischia dove invece pensavamo che ci eh che ci avrebbe battuto ecco ci ha battuti nel gioco aereo quello sì e adesso andiamo a parlare anche un attimo di Menoncello ehm però insomma abbiamo dei giocatori rinnovati non nuovi ma rinnovati perché il Thomas Gallo che abbiamo visto contro Daniela Tupo contro l'Australia in Benetton sì se ne erano viste delle parvenze però ha raggiunto probabilmente l'apice eh della sua ancora giovanissima carriera Teta Saparo una cosa che mi è piaciuto moltissimo eh nelle due partite con l'Australia che eh è migliorato dal punto di vista eh atletico eh si sta tuffando a placare le caviglie al Benetton quando è arrivato è sembrato all'inizio un po' diciamo macchinoso invece adesso sembra sembra un Teta Saparo che sta provando a entrare eh in in forma nell'anno dei mondiali e mi è piaciuto ehm poi abbiamo parlato appunto di Ferrari ma ovviamente Nemer quello anche che ha fatto vedere con la nazionale e poi non voglio dimenticare nessuno non voglio dimenticare i vari Pasquali Alongi insomma i i i nomi ci sono adesso ho parlato solo di piloni però ovviamente non ci possiamo scordare i tallonatori e eh le seconde linee anche le terze però le terze in mischia sono quelle che spingono un po' un po' meno spingono lo so sono importante non vi arrabbiate le terze linee spingono anche le terze però diciamo che i tight five nel nella mischia chiusa sono quelli che fanno eh gran parte del lavoro e quindi questi alcuni input che abbiamo ricevuto che abbiamo ricevuto dal coach intanto cavolo mi si è vediamo se riesco a a riattivarlo mi si è spento lo script avevo qua nel nel video ah eccolo qua è tornato eh avevo qua nel video il il gobo come come dicevano in televisione tempo fa non riferendosi ai tifosi della Juventus ma riferendosi al così al suggeritore dai non arrabbiatevi adesso non ditemi che perderò qua perché perderò iscritti perché ogni tanto parlo male della Juventus devo devo la tifosa del Torino allora filosofia di gioco l'abbiamo detto gioco improntato se l'è deciso me ci sta lavorando sulla difesa e si sta lavorando sul gioco aereo della mischia abbiamo parlato un altro input che ci ha dato Bortolami e che a livello di formazione allora in un'altra intervista aveva già detto che eh ci sarà un turnover ogni due tre partite perché sennò è difficile mantenere eh la il livello della prestazione in un'altra intervista aveva detto che ehm si vuole partire molto forti anche guardando il calendario obiettivo del Benetton e partire forte inizia a incamerare punti anche perché poi ci sono le varie finestre no quest'anno sarà una stagione particolarissima perché ci sarà ovviamente eh le finestre di novembre come sempre ehm dove partiranno i giocatori europei ma anche i giocatori argentini eh adesso iniziamo già per le tre perché abbiamo Gallo cioè ne abbiamo di più ma in ottica Pumas abbiamo Gallo, Teta Sciaparro e ehm e al Bornos e al Bornos e quindi eh ci sarà quello tra l'altro i giocatori argentini che arriveranno dopo ehm poi finestra Six Nation poi si ci si avvicina al Mondiale insomma sarà una stagione da gestire bene dal punto di vista delle rotazioni dal punto di vista dei minutaggi eh a proposito di singoli se ne è parlato poco devo dire che abbiamo fatto i i bravi ossia gli abbiamo fatto delle domande un po' scomode lui è stato bravissimo e gentilissimo a rispondere però non siamo andati a rompere le scatole proprio su ogni singolo giocatore per esempio non abbiamo chiesto nulla dei nuovi dei nuovi arrivi che forse sarebbe stata una domanda che magari eh si sarebbe potuto fare eh all'inizio abbiamo parlato di giovani e lì è stato molto diretto Bortolami ha detto che Iseco e Passarella sono giovani già pronti a far parte del gruppo da subito bellissima notizia si è parlato di alcune posizioni si è parlato ad esempio di Marin eh e di Menoncello mi ha stupito molto eh di Marin me lo aspettavo di Marin la la posizione di Bortolami è sempre stata quella che Marin è un'apertura anche perché lui stesso eh vuole giocare apertura e quindi in Benetton avrà la possibilità di esprimersi d'apertura ovviamente un'apertura adattabile anche ad altre posizioni primo centro soprattutto come doppio playmaker e poi eventualmente in alcune situazioni anche all'estremo ehm però una cosa che mi ha stupito è che Bortolami ha detto che Menoncello invece quest'anno viene considerato soprattutto un secondo centro eh secondo centro posizione molto complicata da apprendere come ci ha raccontato Bortolami perché perché ovviamente devi difendere come un'ala e attaccare come un come come un centro e si è impegnato nel gioco aereo si è impegnato in tutto si è impegnato in tutto è una delle posizioni ovviamente più complicate da gestire Menoncello né assolutamente le qualità per farlo però magari potrebbe essere da secondo centro da centro comunque un po' meno esposto sul gioco aereo come invece è stato espostissimo contro la Georgia e l'ha pagata e l'ha pagata su Nignashvili e quindi l'idea sarà quello di dargli continuità alla posizione di secondo centro in magari anche lasciandolo crescere diciamo con più calma ossia sarà in alternativa e in alternanza con Naccio Brex quindi magari un po' meno minuti soprattutto nell'anno entrante dei mondiali per Menoncello in maglia bianco verde gestiamo un po' il minutaggio di Menoncello e Naccio Brex dando invece fiducia totale fiducia almeno all'inizio alla posizione di primo centro dove ha detto Bortolami che abbiamo tre opzioni queste tre opzioni sono eh Drago stavo per dire eh Filippo Drago stavo per dire Ivan Drago ti spiezzo in due ti spiezzo in due Ivan Drago Filippo Drago Zanon e eh Marco Zanon e Riera giochi in Riera tra l'altro Bortolami adesso non faccio dietrologie ma li ha nominati in quest'ordine e io un po' l'odore che proprio in quest'ordine partiranno perché eh Drago a fine campionato ma ha dato mostra delle sue abilità ed è un giocatore che si vuole sviluppare sia in ottica tre visto che in ottica nazionale ehm e occhio Drago ad esempio uno di quei giocatori che se quest'anno facesse un una stagione eh da incorniciare potrebbe pensare di bussare la porta superiore ed eventualmente giocarsi un posto per i mondiali così come ovviamente a un posto per i mondiali ci pensa assolutamente Marco Zanon e giochi in Riera no però sarà un'opzione molto molto importante anche quando appunto magari questi giocatori potrebbero potrebbero partire per le varie convocazioni poi sempre parlando di individualità abbiamo ovviamente parlato un po' di Thomas Gallo della prestazione che ha fatto con l'Australia però questo l'ho già detto quando abbiamo parlato di Mischia comunque sarà importantissimo ecco adesso adesso con Thomas Gallo abbiamo eh veramente un top player un top player dicevamo che eh treviso a livello di top top player probabilmente avevamo in questo momento Ioane 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 adesso ne parlo Ioane ehm un top player in divenire che potrebbe essere appunto menuncello eh Ruzza Ruzza sta salendo a livello a parer mio di top player e e con Gallo probabilmente ne abbiamo un altro in questo momento io oserei dire che questi eh forse sono i quattro giocatori in questo momento più performanti L'Amaro è un altro giocatore che può ovviamente bussare a quella porta ce ne sono tanti ce ne sono altri che possono hanno eh diciamo l'ambizione di salire ai gradi di top player probabilmente questi giocatori che ho adesso ho detto adesso sono quelli che magari ce li ruberebbero volentieri delle squadre di prima fascia di del top 14 o della Premiership ecco per adesso no c'è stata qualche sirena si è parlato di di si è parlato di un potenziale addio di Teta Ciapparo verso Tolosa speriamo che non sia che non sia reale e e comunque e comunque insomma stavamo parlando di Thomas Gallo che quest'anno sarà ancora più importante nel nelle rotazioni di Treviso Ioane ho nominato Ioane ovviamente gli abbiamo fatto la domanda che non potevamo evitare di fare e ovviamente lui ci ha dato la risposta che ci aspettavamo ossia quello che è stato che c'era da dire è stato detto ormai la situazione è questa allora io sono uno youtuber eh youtuber sono un appassionato che fa contenuti su youtube e quindi non ho nessun problema a a dire quello che si può dire eh Ioane ha avuto una situazione personale particolare particolare eh che ha fatto sì che la propria famiglia dovesse lasciare Treviso eh prima della fine della stagione questo è quello che si sa Ioane ha chiesto di poter raggiungere la famiglia e difatti adesso nonostante il minutaggio mi sembrava anche strano che l'Italia rinunciasse a un giocatore come Ioane per la partita contro la Giorgia perché giustamente qualcuno ha detto sì Ioane doveva riposare ho capito anche Garbisi doveva riposare eh subito dopo aver vinto il il titolo di Francia però è stato fatto correre in nazionale perché quella partita era giustamente una partita importantissima per l'Italia e difatti così sicuro così si è rivelata così purtroppo si è rivelata quindi io col senno del poi dico a Ioane se non ci fossero stati motivi extrasportivi probabilmente quest'uscita libera non sarebbe stata concessa Ioane è partito eh con l'idea di provo a vedere di sistemare quello che c'è da sistemare torno non è riuscito a sistemare nulla ha detto non torno eh non so se dietro ci possano essere anche degli altri progetti sportivi dei retropensieri immagino che Ioane stia discutendo con la società ancora e e la speranza ecco Bortolami non ci ha detto no no è finita non torna ci ha detto Ioane è importante se tornasse farebbe il bip test come tutti quanti e si dovrebbe sudare il suo posto e e niente e basta comunque resta un giocatore su 40 e passa della rosa senior e 60 e passa considerando anche eh i giovani e l'accademia quindi è un giocatore importantissimo noi da tifosi benettoni e tifosi soprattutto dell'Italia speriamo ovviamente che torni eh però per adesso non possiamo contare su di lui mettiamoci una pietra sopra non tanto non possiamo cambiare niente aspettiamo a vedere che succede che succede bene questo è un po' il riassunto di tutto quello che ci ha raccontato Bortolami questo è dove si trova il benetton di treviso ai benetton treviso ai blocchi di partenza della stagione mancano due settimane io voglio aggiungere un qualcosa voglio aggiungere un qualcosa voglio aggiungere la sensazione personale che mi ha lasciato eh Marco Bortolami bella 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 molto bella da tifoso treviso devo dire che sono molto contento che treviso sia nelle mani ehm di Marco mi è sembrata una persona che nutre una grande grandissima passione per il suo lavoro ehm una persona che ama approfondire e e ragionare sulle scelte che fa ricordo che un po' di tempo fa con Ottavio avevo detto alla fine quello che serve per portare avanti il rugby italiano servono due cose passione e serietà serietà che poi ovviamente si tramuta anche in competenza e mi è sembrato che Bortolami sia una persona che ha entrambe queste qualità e e veramente mi ha lasciato una bellissima bellissima impressione in più ambizioso lo ha detto eh quando gli abbiamo chiesto ad esempio se nel suo futuro ci potesse essere l'idea di andare ad allenare a chi non gli abbiamo chiesto la nazionale per non metterlo troppo in difficoltà ma gli abbiamo chiesto Glouster e lui ha detto di sì assolutamente ha detto che eh è ambizioso vuole arrivare al top anche dal punto di vista dell'allenamento quindi treviso probabilmente una tappa importantissima ma di passaggio ehm e poi e poi allo stesso tempo umile umile quindi ambizioso e umile queste due cose che sembrano in contraddizione non lo sono umile nel rapportarsi con gli altri ehm anche nella maniera in cui eh ci siamo rapportati durante il podcast è stato molto bello molto piacevole e e anche nel definirsi quando si è definito sono comunque ancora baby ancora un un bimbo nel mondo dell'allenamento eh e ha le sue prime esperienze sul secondo anno da head coach quindi bene 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 molto molto contento di avere Marco come head coach eh di treviso quest'anno molto contento ed entusiasta di eh che la stagione sta per iniziare ripeto mancano due settimane alla prima amichevole se il shark ed in burgo e poi si inizia con i Glasgow Warriors non mi resta che dire forza leoni veramente forza leoni eh forza rugby italiano ovviamente saremo lì a sostenervi partita dopo partita io farò tutte le mie live quando mi sarà possibile eh non ho ancora finito non è ancora chiaro il mio ruolo all'interno del del mio club del San Cugate l'anno prossimo se allenerò a tempo completo se invece mi prenderò questo anno sabbatico per portare avanti il il progetto anche qua del canale oltre a alcuni impegni lavorativi che veramente quest'anno molto 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 impegnativi sono ancora lì tra sul filo dell'equilibrio dove da una parte mi chiedono giustamente di andare in club ad aiutare dall'altra vorrei fare le cose fatte bene sia lì che qui e quindi potrebbe essere che mi prenda quest'anno quest'anno così di pausa sono ancora lì sto decidendo sto decidendo per il resto ragazzi come sempre fischio finale vi mando un grande grandissimo bacio e ci vediamo domani con il prossimo video ciao 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 ciao